L'alimentazione è protagonista a Parma in questi giorni, dove si parla di tecnologie per il settore agroalimentare, in occasione della 51esima edizione di Cibustec. Il Salone delle Tecnologie per l'Industria Alimentare ha dato il via ad un'edizione 2016 ricca di importanti traguardi. La vetrina si è arricchita di espositori nuovi, un 30% di adesione in più rispetto al passato. I visitatori possono scorgere le novità di prodotto e le soluzioni tecnologiche di ben 1200 aziende. 3000 sono i buyer provenienti da 5 continenti e da 75 paesi. Importante spazio è dedicato alle start-up per questo appuntamento biennale della fiera. La cerimonia di inaugurazione, realizzata in collaborazione con il Parco Tecnologico di Lodi, ha coinvolto 6363 realtà imprenditoriali, provenienti principalmente da Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Veneto e Campania. Tra queste, alcune realtà sono presentate durante la manifestazione fieristica e propongono soluzioni di ogni genere, come ad esempio piccoli droni in grado di registrare le oscillazioni di umidità e smog, oppure tessuti prodotti usando le bucce delle arance. Cibustec è una fiera altamente professionale e specialistica. In mostra si possono conoscere le proposte di innovazione che riguardano l'automazione dei processi di lavorazione del settore agroalimentare, le formule di packaging, le soluzioni per una maggiore sicurezza alimentare, i software e le applicazioni per la gestione ed il controllo delle operazioni, le idee e la consulenza per lo sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili ed in linea con le esigenze che cambiano. Le proposte puntano quest'anno a soluzioni più funzionali, alle esperienze alimentari quotidiane dei consumatori, proposte di confezioni per cibi pratiche e monouso, per andare incontro alle esigenze di una routine frenetica e sempre in mobilità. Questa edizione di Cibustec vede per la prima volta in azione la collaborazione nata con Fiere di Colonia, colosso tedesco che rappresenta un riferimento mondiale per la realizzazione di eventi food e food tech. Da oltre 70 anni Cibustec mette in rilievo le novità tecnologiche del settore alimentare, confermandosi un appuntamento del settore internazionale imperdibile.